scendi e prende quello però scendi e sotto e prende quello ma che bastardi gli altri due sono stati recuperati? furaccio che cazzo di bastardoni? ma chi li butta? madonna vedo te che là sotto ce ne stava un altro l'ho sentito mi posso un attimo oh si ci sta un altro oh madonna serve una mazza? amore ma chi fa una cosa del genere? oddio vediamo se uno ce ne sta uno Giordano la servivo io ma chi fa una cosa brutta così? dove sta? si ma sentivo qualcosa pure io prima ancora oh bello si ma ma poverini eccolo l'ha preso? oh mio dio questo è più piccolo ma c'è nessun altro? eh si sta proprio si infatti allora quindi due sono già stati recuperati questi adesso sono quattro quattro abbandonati quindi quattro abbandonati nel fiume fantastico ma che bastardi guarda ma perché sta fuori?